Un altro vantaggio da non sottovalutare, anzi direi molto importante del servizio di conciliazione è quello di essere uno strumento molto semplice da utilizzare, nel senso che il soggetto interessato a presentare una domanda di conciliazione dovrà soltanto preoccuparsi di compilare un modulo. Anche questo aspetto direi che è una caratteristica che dà molto valore all'utilizzo di questo strumento perché spesso ci si trova a confrontarsi con procedimenti burocratici un pochino più complicati. Una volta depositata la domanda la segreteria dell'ufficio dà avvio alla procedura, ovvero si invierà una comunicazione scritta alla parte nei confronti della quale la domanda si rivolge e la parte a tempo, 15 giorni, per rispondere se ha intenzione o meno di accettare il tentativo di conciliazione. Trascorsi i 15 giorni sarà compito sempre dell'ufficio contattare telefonicamente la parte e spiegare meglio in che cosa consiste il servizio di conciliazione, cercare di far capire quelli che sarebbero i vantaggi nell'accettare il tentativo di conciliazione. Nel caso in cui si dovesse riuscire a far accettare la conciliazione si fissa l'incontro, l'incontro ovviamente viene fissato in tempi davvero molto brevi, nel giro di una settimana al massimo, e le parti soltanto in questo caso avranno un costo da sostenere, cioè soltanto nel caso in cui si riesca a fissare l'incontro. Per farvi un esempio di quanto siano contenuti i costi del servizio di conciliazione, fino a 250 euro come valore indicativo della controversia, il costo per le parti è di 16 euro. Da 250 a 2.500 è di 41 euro, se si passa a cifre più alte, per darvi un esempio anche di quella che è la cifra più alta alla quale si può arrivare, da 100.000 a 250.000 euro il costo per ognuna delle parti è di 1.650 euro. Oltre 250.000 euro, perché ci sono anche delle conciliazioni con valori molto alti, il costo è di 1.650 euro più lo 0,5% sull'eccedenza. Quindi immagino, vi rendete conto che i costi sono davvero molto contenuti. Nel caso in cui invece non si riuscisse a fissare l'incontro, non ci sarà nessun costo da sostenere. Tra breve assisteremo appunto alla simulazione di una procedura di conciliazione, così vedremo più in dettaglio quelli che sono i tre momenti che caratterizzano proprio l'incontro. L'ambito nel quale il caso si inserisce è quello turistico.